Non sarà il frutto dell'Eden, ma questo materiale è molto prezioso. Guarda, gli assassini di Londra avevano trovato una sindone. La sindone dell'Eden è in grado di curare qualsiasi ferita. Se gli assassini l'avessero trovata, certo papà l'avrebbe saputo. Però c'è qualcosa che manca. Qualcosa che vediamo solo noi. Sembrano indicazioni. Non vuoi venire? Davvero, il lavoro sul campo non fa per me. Troviamo l'indizio di un manufatto e non vuoi seguirlo? Messa così, non posso rifiutare. Sì, non è così. Questa mappa ci condurrà alla casa di Kenway. Kenway? Il pirata? Maestro, assassino e pirata. Sì. Che cosa sai delle sindoni del Med? Si dice che curino e addirittura che possano risuscitare i morti. Ma secondo gli assassini non è vero. Non sapevo ce ne fosse una all'altra, però. Pensi che Edward Kenway l'avesse trovata. Ha viaggiato molto, perciò è possibile. Se l'ha fatto, ha mantenuto la cosa segreta. Ma se fosse vero, pensa che scoperta potrebbe essere. Già. Spero di scoprirlo, infatti. Mi sorprende che tu non abbia ispezionato casa Kenway. Il figlio di Edward, Ethan, si è un mio templario. Quando morì, la casa passò poi a sua sorella. E da quando sei a Londra, non ci sei mai andato. Non eri nemmeno curioso. In realtà non credevo ci fosse nulla. Non sappiamo quante volte la casa sia stata venduta. Supponevo che Ethan l'avesse esaminata a palmo a palmo prima di partire. Ma se Miss Thorne crede che la Sindone sia ancora lì... Se c'è una cripta, i Templari non l'hanno trovata. I Templari avevano una casa che conteneva tesori degli assassini. E non li hanno trovati. Siamo più bravi di loro a nascondere le cose. Siamo più bravi di loro a nascondere. A meno di notizie sul taccuino scomparso. Non sarà facile entrare. Vuoi farlo lo stesso? Se è un covo dei Templari, non sarà mai facile. Ma non temere. Gireremo a largo da Miss Lucy. Andiamo? Puoi guardare là? Ma certo. Ehi, se vengo lì, ti faccio sputare sangue. Ehi, se vengo lì, ti faccio sputare sangue. Sembra interessante. Ehi! che cazzo prego di tempo mi storna davvero gusto un manufatto degli assassini qualcosa del tempo di camway che sta facendo questo è degli assassini hanno conservato tutto questo vorrei che papà lo vedesse che stiamo cercando non ne sono sicura che cosa sfugge ai templari qualcosa che vediamo solo noi a presto non proprio discreto, vero? certo che camway aveva il senso dello spettacolo ma è incredibile la storia degli assassini veni a londra nascondigli, cripte, una chiave, è tutto hai detto della musica? lì prima non c'erano apertura si sta chiudendo si, lo vedo anch'io tieni a bloccarla ci sono un'altra uscita una cripta colma di storia degli assassini di nuovo abbandonata di nuovo abbandonata dovremmo sistemare il busto o trovare un deposito migliore dovremmo? pensavo odiassi il lavoro sul campo beh, in realtà pensavo a te e tutto non c'erano non c'erano con quella cosa non c'erano ma non c'erano Grazie a tutti.